Carissime sorelle, fratelli, amici, associati, soggiorners, corresponsabili, siamo a Natale, una festa sempre tanto cara e attesa, che riempie di gioia il nostro cuore per la venuta del Signore Gesù in mezzo a noi. A Natale Dio si fa uomo perché la vita di ogni persona esprima la fioritura di un'umanità pienamente realizzata dalla sua presenza. Natale è la festa dell'incontro tra Dio e l'uomo nella tenerezza di un bambino che desidera essere riconosciuto attraverso gesti di amore e di solidarietà nei fratelli e nelle sorelle che si incontrano ogni giorno. Allora è Natale quando la nostra umanità fiorisce perché ci si incontra e ci si lascia guidare dall'amore. È Natale quando cerchiamo di superare paure, chiusure, resistenze, pregiudizi, indifferenza. Quando siamo capaci di donare in sovrabbondanza un amore smisurato a tutti senza escludere nessuno. In questo Natale così inedito e povero si rinnova questo mistero che sempre ci stupisce, ci commuove. Dio con la sua luce si affianca a noi e in segni quotidiani, spesso fragili e deboli, Dio si fa presenza e tutto torna a sperare. In questo Natale silenzioso e riservato vi sia allora per ciascuno di noi un segno che faccia nascere dentro qualcosa di nuovo. Una particolare luce nel cuore che rinnovi la vita, una parola sincera che riscaldi, un incontro inaspettato che doni gioia, un augurio inatteso che riempia di meraviglia, un sorriso caldo che commuove. In questo Natale semplice e profondo l'amore di un Dio povero, di un Dio bambino, ci raggiunga in novità. Egli ci insegna a vivere in pazienza e umiltà, in ascolto e nello stupore, nella meraviglia di un mistero che accade ogni giorno nella nostra quotidianità. A tutti voi allora, carissimi amici e amiche, vi auguriamo un Natale che possa riempirvi di speranza, che possa colorare i vostri giorni di ragioni di vita. Buon Natale, che rinasca la speranza, quella che non delude, per un anno nuovo in cui quello che abbiamo vissuto e quello che stiamo ancora sperimentando ci insegni, ci insegni ad essere più umani, ci insegni ad essere più vicini. Tanti auguri di cuore. Buon Natale.